Beh, non credo che abbia la competenza per dirigere una delle massime orchestra sinfoniche. Ehm, mi vuoi aspettare qui un minuto? Eh? Ah, certo. Dottor Wankman, questa sì che è una sorpresa. È stata una prova meravigliosa. L'ha sentita? Sì, lei è la migliore della sua fila. Oh, grazie. Che orecchio, riuscire a sentire me sola con tutto il pieno d'orchestra. Ah, io non accetto questo sfotto da lei. C'è già gente che fa la coda per sfottermi. Lo so, è una grossa celebrità ora. Ha qualche... If there's something strange in your neighborhood, who you gon' call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gon' call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed, oh, who you gon' call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost. Who you gon' call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone, and you call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghost. I hear it like the kids. I ain't afraid of no ghost. Yeah, 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 yeah! Who you gon' call? Ghostbusters! If you had a dose of a freaky ghost, baby, you'd better call. Ghostbusters! Ghostbusters! I ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no guns Don't get caught right, oh no Ghostbusters When it comes through your door Unless you just want some more I think you better call Ghostbusters Who you gonna call? Ghostbusters Who you gonna call? Ghostbusters I think you better call Ghostbusters Who you gonna call? Ghostbusters I can't feel you Who you gonna call? Ghostbusters Louder Ghostbusters Who you gonna call? Ghostbusters Who can you call? Ghostbusters Grazie a tutti